Ancora violenza domestica, violenza fisica sulla moglie, psicologica nei confronti dei figli minorenni. L'episodio si è verificato in provincia di Napoli, a Pianura, dove un uomo accoltella la moglie. La chiude in casa e poi esce. Le voci sono quelle dei vicini, non arrivano da lontano. La stazione Carabinieri di Pianura, quartiere occidentale di Napoli, a piano terra di una palazzina in via Gallieri. E da un appartamento nei dintorni urla strazianti insulti e minacce. Poi una porta chiusa con forza e il tintinio inconfondibile di un mazzo di chiavi. È notte, i negozi sono chiusi in giro, poche auto e i militari sentono tutto chiaramente. Raggiungono l'abitazione seguendo le richieste di aiuto gridate dalla finestra. Una donna è bloccata all'interno e il marito dice che la ferita è poi chiusa in casa. Grazie all'intervento immediato dei vigili del fuoco, i carabinieri sfondano la porta e soccorrono la vittima. Al braccio una ferita profonda provocata da una coltellata inferta durante la discussione. La donna racconta tutto, delle violenze e delle vessazioni subite ogni giorno, ormai da tempo, anche davanti agli occhi dei figli minorenni. I militari fanno partire le ricerche e individuano il marito dopo pochi minuti ancora in strada, che girava indisturbato. Finisce in manette, arrestato indifferita per maltrattamenti in famiglia, ora in carcere. In attesa di giudizio per la donna, lesioni ritenute guaribili in 20 giorni.